Amiche e amici, un'altra vittoria del Taranto, la terza consecutiva, adesso il Taranto è in alta classifica, ci stiamo divertendo, è un Taranto che piace, che ha chiuso la partita nel primo tempo, poteva fare ancora altri gol, è un Taranto che non gioca più come molti detrattori di Capuano che gioca per lo 0-0, gioca in maniera difensivista, è un Taranto che attacca, che crea occasioni e che piace veramente. Questa volta non ha subito per niente il Messina, abbiamo contenuto anche nel secondo tempo, potevamo segnare ancora il terzo gol, veramente molto bene e adesso comincia veramente a diventare interessante perché domenica abbiamo la capolista di Juve e Sabia, possiamo avvicinarci ulteriormente, ma veramente abbiamo trovato un Taranto che piace, molto bene Bifulco, ormai veramente in fiducia, pieno di entusiasmo e sta trovando anche i gol, che è molto importante, bene anche Canutè, gli è mancato solo il gol oggi, bene tutti veramente, questo è un Taranto che piace, questo è un Taranto che sta giocando molto bene, dobbiamo insistere, la Rosa è ampia, oggi poteva giocare Bonetti, secondo me nel secondo tempo poteva mettere Bonetti, giocare con il 3-5-2, contenere e ripartire meglio, ha voluto giocare con Bifulco e Canutè fino alla fine della partita, domenica abbiamo un'altra partita, non vorrei che si fossero stancati, ma questo Taranto veramente ora è una certezza, è una certezza del campionato e dobbiamo insistere, bisogna insistere perché veramente ci stiamo divertendo, molto bene la difesa, continuiamo a prendere delle ammunizioni anche un po' stupide, ma ci sta oggi nella foga diciamo che sono state giustificate a centrocampo Zonta e Calvano immensi, veramente Zonta e Calvano credo che a questo punto due come loro in questo campionato non ci sono e abbiamo anche in panchina i sostituti, se recuperiamo tutti gli infortunati, oggi è rientrato Orlando, dobbiamo recuperare Panico, soprattutto Fabbro che è un altro Canutè, recuperiamo questo Taranto, può veramente dire la sua in questo campionato e allora iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete like a questo video, io sono Gianluigi Lippo, questo è il canale Passione Taranto la prossima partita, domenica contro la Juve Stabia a capolista, un big match e sempre Forza Taranto